Abbiamo fatto molta fatica perché a diare del rigore ci sono stati altri due o tre interventi di manzioni importanti, compreso il rigore, e che se fossero andati diversamente sicuramente avremmo avuto più difficoltà. Poi a secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa tatticamente, siamo tornati a fare le cose nostre, però con tanta personalità perché a diare dei due gol ci sono state tante altre occasioni per fare il terzo, con una squadra che ha provato veramente a andare oltre l'ostacolo e provare anche a vincere, sapendo che davanti avevi in ogni caso dei giocatori importanti, di qualità, e sapendo che per fare il tipo di risultato non dovevi concedere niente. È stata una partita da due tempi, primo tempo con un assetto diverso, forse eravamo un po' troppo schiacciati, quindi loro sono stati bravi a chiuderci nella nostra area, hanno avuto un calcio di rigore, fortunati con il calcio di rigore, ma poi a secondo tempo ci è scattato qualcosa perché sapevamo che pur soffrendo potevamo fare una vittoria importante, la vittoria della svolta mi auguro perché venivamo da un momento non felice, a differenza di Lavellino, quindi spero ci dia veramente serenità perché a 40 punti è un bel bottino e possiamo continuare il campionato un po' più sereno. Questa doppietta la dedico a mio padre che a mezzanotte compie gli anni, che è stata a casa a vedere la partita, quindi la dedica è per lui. Sì, l'ha un po' guardato Gigi ultimamente come ha cacciato i rigori, diciamo che lui ce l'ha questa caratteristica di provare a farti andare giù prima, ci hanno detto anche col mister di cercare di stare il più su possibile, di solito poi se stai fermo tende a incrociarla, magari non l'ha presa bene, però bene per noi insomma. Una prestazione direi in linea con l'applicazione che ha avuto la nostra squadra, anche perché sai, quando si viene in una piazza come questa, contro una squadra come questa, è chiaro che per portarvi a punti devi fare qualcosa di meglio della sufficienza. Siamo contenti perché per noi questa è una partita importante contro una squadra comunque che io reputo importante e che a noi dà una grossa mano per la classifica.